Ciao a tutti, io sono Daniela e sono la titolare del centro estetico Beauty Premier Calcinate. Sono estetista da 13 anni e il nostro centro è situato in via Marconi numero 2 appunto a Calcinate in provincia di Bergamo. Sono estetista da 13 anni ma sono titolare da 6 anni. Siamo specializzate nella cura del viso. Mi piace pensare di rendere più felici appunto le clienti e aiutiamo le persone a risolvere i loro inestetismi riguardanti appunto le problematiche della pelle del viso, quindi quali acne, anti-age, dermatiti. Credo che il punto di forza del mio istituto sia l'accoglienza al cliente. Mi piace che la cliente quando entra si trova in un ambiente familiare e dove si sente curata sotto ogni punto di vista. Un cliente dovrebbe cercare un centro Beauty Premier e affidarsi alle nostre mani perché Beauty Premier punta tanto sulla qualità dei servizi, dei prodotti e della formazione delle estetiste che ci sono all'interno del punto vendita. Noi utilizziamo il laser marchiato Beauty Premier per l'epilazione definitiva appunto. Stiamo avendo dei buonissimi risultati. La cliente si rende conto già dopo pochissimo dell'efficacia del trattamento. Con me lavora anche Elisa che è specializzata nei trattamenti corpo e nei massaggi. Da qualche mese siamo convenzionate con Satispay che è un metodo tecnologico innovativo per pagare che dà la possibilità al cliente finale di avere delle scontistiche sul prezzo totale.